E' scoppiato il caso delle tariffe gonfiate per lo smaltimento dei rifiuti dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata. Denunciarlo lo scorso anno il Presidente dell'Unione, nonché il Sindaco di Sant'Omero Alberto Pompizzi, che aveva presentato un ricorso alla Regione Abruzzo. Ora gli stessi uffici regionali hanno dato ragione a Pompizzi, dichiarando illegittimi gli aumenti tariffari applicati all'Unione, quindi alla Poliservice, dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Lanciano e successivamente dalla Ecoconsul, titolare di alcuni servizi relativi alla gestione dei rifiuti. Una cifra che si aggira attorno al milione e mezzo di euro per le annualità 2009-2010, soldi che pesano ovviamente sui bilanci comunali e sulle tasche dei cittadini. C'è stato un aumento di circa il 40% del costo in discarica e io poi l'ho contestata sia come Sindaco di Sant'Omero che come Presidente dell'Unione dei Comuni. L'ho contestata a Cerratina anche perché poi a Cerratina si è scoperto che questi si erano messi da parte un gruzzolo di oltre 18 milioni di euro a danno chiaramente dei malcapitati, cioè dei comuni che conferivano a Lanciano. Quindi abbiamo contestato questa cosa, abbiamo scritto alla Regione. A questo punto che succede? Potreste cominciare a chiedere anche dei rimborsi? Abbiamo già iniziato un contenzioso, il quale poi si sta perfezionando in questi giorni. Cerratina, incurante del ricorso nostro alla Regione che avevamo mandato pure a loro, hanno continuato a chiederci 500-600 mila euro che dovevamo ancora all'impianto e ci hanno fatto un decreto ingiuntivo. A seguito poi di un accordo si è deciso che stiamo pagando, e quindi la Poliservice sta pagando i 600 mila euro, con l'impegno però che nel caso in cui la Regione ci avesse dato ragione, a questo punto Cerratina ci doveva restituire, all'epoca io avevo contestato, 1 milione e 600 mila euro. Si tornerà a rifare il calcolo e quindi Cerratina ci dovrà rimborsare, e io penso che sia sull'ordine di un milione di euro. La stessa cosa poi è avvenuto l'anno dopo con la Eco Consul di Angarano, in quanto ci siamo accolti in pieno periodo estivo che era stato aumentato il prezzo in discarica. A questo punto abbiamo fatto la stessa cosa con la Eco Consul e abbiamo scritto alla Regione. Oggi devo dire con mia grande soddisfazione che finalmente ai cittadini potremo abbassare ancora di più il costo dei rifiuti, grazie anche a questa azione che abbiamo compiuto nell'interesse dei cittadini e dei nostri comuni che stiamo amministrando con grande difficoltà. Grazie a tutti.